E lo schieramento vede al numero 1 Bambu Lux Roberto Vecchione, al 2 Bon Jovi Jet, Alessandro Gocciadoro senza i quattro feri, al 3 Bascio di Dama Font, Giuseppe Lombardo Junior senza i feri anteriori, 4 Barba Blu Antonio Di Nardo, 5 Blasco Real Enrico Bellei senza feri anteriori, 6 Battost, Francesco Facci e anche Battost, toglie i feri davanti. Questi sono i sei partecipanti alla seconda del convegno con la macchina che adesso entra nella retta delle tribune, si prepara per lo stacco che avviene in questo istante. Con calma come fa spesso Battost, parte prima anche Blasco Real, davanti ci va Bon Jovi, qui a ridosso c'è Bacio di Dama, poi Barba Blu, ancora Bambu Lux, quindi Blasco Real e Battost, 13,1 ai primi 200 metri, Bon Jovi al comando, Bacio di Dama di rincalzo, davanti a Barba Blu i 400 in 28 appena scarso, poi Bambu Lux, Battost all'esterno, Blasco Real in coda al drappello, quelli che ora passano al paletto dei primi 600 metri, 600 che il leader completa in 43,5 avendo sempre in scia, Bacio di Dama Font, poi Barba Blu, Bambu con all'argo Battost, Blasco Real a chiudere il drappello, Barba Blu che ora va ad incalzare, Bacio di Dama mentre Bon Jovi prosegue la sua marcia in avanti e chiude gli 800 in 58 appena abbondante, alle sue spalle in coppia Bacio di Dama e Barba Blu, poi Bambu Lux con all'argo Battost, Blasco Real a chiudere il drappello, Bon Jovi è sempre chiaramente al comando, al chilometro in uno 11,5, poi Bacio di Dama con all'esterno Barba Blu che ora prova l'aggancio al battistrada il quale però ha sempre una lunghezza abbondante di vantaggio, 1,25 spiccioli per i 1.200, ingresso della retta di arrivo con Bon Jovi al comando, Barba Blu che insegue poi Bacio di Dama Font mentre ha sbagliato Battost, Bon Jovi Jet che allunga ancora, Bon Jovi in nettissimo vantaggio su Barba Blu, Bon Jovi Jet che prosegue facile al comando fino in fondo, Bon Jovi davanti a Barba Blu, Blasco Real e Bambu Lux, 1,54 scarso, 1,11,2,1,3 dovrebbe essere la media al chilometro Bon Jovi Jet sferato di quattro con Alessandro Gocciadoro in salchi e al training i colori sono del signor Alessio Ferrara, vince con facilità nell'ordine dell'1,11,2,11,3 Settima conclusiva il premio Lio La, confronto sull'ammiglio per tre anni, Cilieja Gual, Custosa, Christian Griff, Coca-Cola S, Cico dei Daltri, Chef Axe, Catone Richo, Castiglio in seconda fila, Gambino, Cataleia, Wise, AS e Caiman, questo è il campo partenti, è ovviamente la macchina che accelera e si prepara per lanciare i concorrenti, con calma Chef Axe, con calma Castiglio, sbaglia Custosa, sbaglia anche Cico dei Daltri e si avvantaggia così Catone Richo davanti a Coca-Cola AS, tante le rotture a questo punto in corsa sono rimasti in otto, in testa Catone Richo, in coda Caiman che segue Chef Axe, 13,5 il lancio, 29 il quarto iniziale, con Catone al comando, Cico dei Daltri, Coca-Cola S scusate, nella sua scia, all'esterno risale Castiglio, allargo anche Cataleia che sopravanza Christian Griff, respinto il primo assalto di Castiglio da Catone Richo, 800 iniziale in 59 scarso, a contatto del gruppo di testa anche il resto del gruppo che ormai si sta facendo più compatto, Catone al comando, allargo Castiglio seguito da Cataleia che si affaccia in terza a metà della perata finale, di dentro viaggia sempre Coca-Cola AS, prova a farsi luce anche Christian Griff e dal fondo anche Chef Axe, siamo all'ingresso della retta di arrivo con Cataleia all'attacco di Catone Richo, c'è stata la rottura di Chef Axe, Cataleia che insiste, prova ad aggiungersi alla lotta anche Caiman, Cataleia all'attacco di Catone Richo, Cataleia attacca, Catone prova la difesa, Cataleia guadagna qualcosa, poi Coca-Cola di dentro, Caiman a centro pista, Cataleia è passata, Cataleia! che vince con sicurezza, per il secondo sono vicini Caiman e Catone Richo, poi Coca-Cola AS e infine Gambino, Cataleia, Wise AS, Bissa la vittoria che aveva ottenuto sulla pista, attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva a divisionare il filmato della corsa, ripeto, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva a divisionare il filmato della corsa. quindi c'è da rivedere il filmato della corsa prima di convalidare l'ordine d'arrivo che per come sono transitati sul traguardo, 10 Cataleia al primo, 7 Catone Richo al secondo, 11 Caiman al terzo, poi vedremo se ci saranno decisioni da parte della giuria, Cataleia, una figlia di Vivi 2 AS che raddoppia il successo che aveva ottenuto con Caos, i colori sono del signor Edoardo Guida, il training e la guida di Alessandro Gocciadoro al raddoppio, anche lui dopo la splendida vittoria che aveva ottenuto alla seconda con Bongiovi-Jet.